Praia, Mare e Crotone. Il governo si impegnerà ad accelerare l'iter per procedere alle bonifiche dei terreni in cui, in Calabria, risultano essere state interrate sostanze nocive. Il caso della Marlane e la vicenda delle opere pubbliche realizzate nella città pitagorica con l'impiego di materiali ferrosi contaminati sono di dominio nazionale. Ad annunciare l'iniziativa del governo è il ministro per gli affari regionali, Maria Carmela Lanzetta. A Roma sarà costituito un tavolo per le bonifiche che andrà a ricomprendere tutte le aree a rischio presenti nel paese. Alla regione Calabria, ha detto il ministro Lanzetta, ho chiesto di attivare gli studi necessari per il territorio. Sindaci e organizzazioni sindacali chiedono che le procedure di bonifica partano al più presto per consentire l'individuazione e l'eliminazione dei materiali e delle sostanze nocive dai terreni risultati inquinati. Dalle associazioni ambientaliste arriva poi l'appello ad occuparsi anche dei casi relativi al recupero dell'alveo del fiume Oliva nel comprensorio Diamantea e del bacino idrico dell'Alaco, vicenda quest'ultima che coinvolge la popolazione di decine di comuni delle province di Vibo e Catanzaro.